mattia caddeo 0 a 0 col col castiadas una gara movimentata non bellissima avete avuto da recriminare tu in particolar modo volevo appunto partire dalla fine perché c'è stata quella palla che era troppo invitante stiamo andando ad impattarla e poi che è successo niente matteo vinci fa una grande azione mette una palla dentro il portiere non so se ha svelato riuscito se la palla schizza comunque sia salta il portiere io sono un metro dalla porta e devo appoggiare dentro la rete mi sento tirare da dietro vado giù e niente riesco solo a sfiorare la palla non è possibile che quello non sia un rigore dopo i tre di settimana scorsa infatti che cosa sta succedendo perché ho sentito che contavate no ma non è una cioè io non voglio fare neppure nemiche né niente però è un dato di quando ci sono tre 70 per cento rigore uno salterà fuori certo questo sarebbe stato importantissimo perché era proprio gli ultimissimi secondi chiaro ma poi secondo me è una partita meritata perché siamo mancati forse davanti nel gol per il resto abbiamo fatto una buona partita meglio che a bosa un buon pallegio ecco in questa partita meglio anche nel secondo tempo nel primo un po un po di studio sì sì perché ci sta comunque sia il castello saranno importanti in questo mini campionato non sai cosa cosa trovi davanti però niente secondo me abbiamo fatto molto bene sia il primo che il secondo tempo anche meglio ci abbiamo creduto primo tempo c'è un gol annullato che sono curioso di rivedere molto curioso perché io sto guardando il mio compagno non penso mai che me la passa invece me la da sono a fianco praticamente quindi deve essere veramente un fuorigioco deve essere stato veramente bravo il guardiarine a vederlo lo voglio rivedere e adesso vediamo senti in condizioni normali se pareggi contro questo castiadas un buon punto per il castiadas pareggiare contro questo guispe in trasferta un buon punto però siete scontenti perché in questo mini torneo anche i pareggi stanno mezzo sconfitto sì ma beh io sono contento della prestazione ripeto di tutta la squadra siamo mancati davanti e c'è mancato il gol peccato certo in questo mini torneo sono due punti tra virgolette persi però non è facile chi affronterà il castiadas dovrà sudarsi quei tre punti sicuramente chi affronterà il bosa dovrà sudarsi quei tre punti ugualmente perché anche il bosa è una squadra come sempre è stata soprattutto in casa molto molto fastidiosa invece da vedendola dal di fuori sta pesando il fatto che comunque l'uri un po scappa come classifica poi voi penserete ai due sconti diretti il castiadas idem e quindi c'è spazio ovviamente certo non è finita così perché noi proviamo a non abbiamo mai detto che dobbiamo vincere il campionato per forza che siamo i più forti non non penso però tirarsi indietro no non ci tiriamo indietro noi siamo lì non ce la possiamo giocare con tutti assolutamente e ce la giocheremo con l'uri e dovremmo vincere abbiamo due scontri diretti andate ritorno e dovremmo vincere due e poi l'uri ad affrontare anche tante altre squadre che sono sono tutte competitive sono tutte otto competitive mi racconti questi cinque mesi come si passano per tenere una condizione accettabile avete avuto anche poche settimane per ripresentarvi ad un certo livello però ognuno di voi poi ha dovuto fare qualcosa tu cosa hai fatto in questi mesi mi sono allenato mi ha dato una mano il tennis sono sincero perché mi piace molto il tennis mi ha dato una mano il tennis e poi mi sono allenato almeno cinque a volte sei volte la settimana facevano quelli sport concessi no? sì sì in zona l'azione c'è chi faceva il padel il padbo che adesso sono i nuovi sport però consentiti quindi faceva comodo il tennis è più di movimento e mi ha aiutato tanto è stata più una cosa mentale perché poi alla fine non avendo tanto da fare vai ti alleni certo non è come venire al campo e scambiare la palla con i tuoi compagni farlo senza la palla è difficile ma ci credevi sempre a questa ripresa comunque ti allenavi pensando che all'inizio sì alla fine ho detto boh mi sa che finisce così però se è mollo arriva 85 kg ma anche perché comunque ci poteva anche se una chiamata dalla serie d ormai per voi ragazzi di eccellenza diventa una categoria impossibile no non ci ho mai pensato alla alla chiamata della serie d sinceramente avrei voluto riniziare col guspini perché avevamo un bel progetto e stavamo facendo le cose fatte bene infatti lo dimostra quello che ha fatto il presidente della società in questi in questo mese di mercato in questi ultimi due mesi per quanto riguarda la serie d non penso che sia siamo a porte chiuse io voglio giocare a calcio dove le cose si fanno seriamente a guspini è uno dei pochi posti dove si fanno le cose seriamente perché il presidente non ti fa mancare davvero niente e invece poche sicuramente saranno le serie di serie va bene mattia niente voi riposate giusto quindi avrete modo di migliorare la condizione magari la classifica potrebbe peggiorare diciamo per voi che dovete inseguire però torniamo al discorso di prima non cambia niente grazie mattia complimenti ancora e in bocca a gioco